Grazie per supportare il nostro canale. Che sia maschio, che sia femmina. L'importante è che stia bene e come ho detto prima. Che venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo, ha poi aggiunto. La scenetta è stata ripresa da Giulia Delellis, seduta tra le prime file non distante dalla stessa Aurora. Quest'ultima, sempre in una clip condivisa su Instagram dalla Delellis, è apparsa con lo sguardo sognante vicina alla commozione mentre il papà le dedicava il tenero intervento dal palco. Il tutto è avvenuto a poche ore dall'annuncio ufficiale della dolce attesa dell'unica figlia avuta da Ramazzotti con Michelle Hunziker. Auri, come la chiamano gli amici, nella mattinata di venerdì aveva infatti pubblicato un ironico video sui social per confermare a un mese di distanza dall'inizio della circolazione dei pettegolezzi a riguardo di essere incinta. Il papà del nascituro è il fidanzato Goffredo Cerza. Grazie a tutti.